E' fondamentale la conoscenza, la cultura e soprattutto la capacità di capire che le notizie devono essere verificate, vagliate, attentamente, comprendere se una notizia è falsa o meno è difficilissima. Quindi ci vuole la forza e la capacità del giornalista di determinare con il suo lavoro, con la sua funzione, anche questo rapporto con chi utilizza i nuovi mezzi di informazione.